Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo con l'argomento che sta tenendo campo soprattutto in questi giorni, ovvero quello delle concessioni balneari approdato anche in Palazzo del Pegaso dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito le concessioni, la proroga per le concessioni balneari fino al dicembre 2023. Serve un intervento celere, si afferma anche in Consiglio regionale da parte del Governo su questa tematica con tempistiche assolutamente brevi. Un dibattito che comunque ha acceso anche alcune polemiche all'interno dell'Assemblea Toscana. Vediamo. La decisione del Consiglio di Stato di fissare al 31 dicembre 2023 la data definitiva di scadenza delle concessioni balneari attualmente in essere ha sconvolto i gestori degli stabilimenti stessi, scatenando le proteste delle associazioni di categoria, una vicenda che ha acceso il dibattito anche in Consiglio regionale. Pochi giorni fa il Governo Draghi aveva escluso una revisione delle concessioni dal nuovo disegno di legge sulla concorrenza, varando solo una sorta di censimento di quelle in vigore, ma poi ci hanno pensato i giudici amministrativi a disporre la data di definitiva decadenza e la rimessa a gara di tutte le concessioni dal giorno dopo, senza alcuna garanzia per gli attuali gestori di poterle riottenere. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la normativa statale si pone in contrasto con la normativa comunitaria, ha chiarito anche l'inefficacia degli atti della pubblica amministrazione che nel frattempo sono stati adottati, provocando quindi una decadenza delle concessioni, che peraltro non viene effettuata in maniera automatica, ma si dà un termine fino al 31 dicembre del 2023 per poter organizzare le nuove gare. Una decisione dirompente rispetto alla quale la politica quindi è chiamata a una riflessione, perché le azioni che sono state concentrate a diversi livelli fino ad ora sono state tutte azioni che pur nel rispetto dei principi comunitari avevano come obiettivo quello di garantire una certa stabilità delle concessioni per un numero di anni piuttosto ampio. Oggi quei principi vengono meno, la politica a tutti i livelli deve fare i conti con una pronuncia che è resa da un'autorità giudiziaria e quindi si dovrà fare in modo, e credo che lo sforzo che tutte le forze politiche, tutti i livelli istituzionali dovranno fare nei prossimi mesi, sia quello di arrivare al rispetto della legge con soluzioni e con modalità che consentano agli operatori del settore di affrontare al meglio i passaggi successivi che dovranno gioco forza vivere a causa appunto di una pronuncia giudiziaria. La nostra posizione è che le spiagge e queste concessioni non sono in vendita e non è pensabile, come ha affermato anche il Consiglio di Stato con questa proroga che va fino alla fine del 2023, che le concessioni, la decadenza delle concessioni in maniera immediata e generalizzata posta in essere in questo modo crea chiaramente al comparto che vede impiegati un milione di dipendenti e 10.000 aziende in Italia, chiaramente non è pensabile che si possa creare in questo settore una destabilizzazione di un mondo del lavoro, ma anche di una professionalità, anche di un comparto che ha fatto la storia, i pionieri del nostro turismo sulle nostre coste italiane. Il Governo nazionale deve essere un Governo chiaro che abbia la forza di andare in Europa e pretendere il rispetto per il lavoro costruito. Nessuno nega che a Monte ci sia una concessione di maniale, nessuno lo nega, sarebbe folle negarlo. Per gli ambulanti vale, per i tassisti vale, per i balneari. Ma non possiamo ignorare che dalla concessione di maniale iniziale a quello che c'è oggi in mezzo ci sono decenni di lavoro, decenni di investimenti, decenni di lavoro manuale, di professionalità investita da uomini e donne italiane. E questo valore, questo lavoro costruito negli anni deve avere un valore economico. Non può essere cancellato con una firma imposta da Bruxelles alla quale figuriamoci se il Governo Draghi non obbedisce. Quindi noi siamo fortemente preoccupati per quello che accadrà, per i balneari o ultimamente per i tassisti, perché alla fine ci sono finiti loro nel decreto concorrenza e potrebbe succedere di nuovo per gli ambulanti quando torneremo a parlare di concessioni per gli ambulanti. La questione delle concessioni balneari purtroppo è sulle cronache da molti anni, anche per il fatto della procedura di infrazione in cui l'Italia è versa. Io sottolineo ancora che le coste, i tratti di costa balneabili, tutti i tratti di costa sono risorse naturali e quindi rientrano. Diversamente da altri fatti specie all'interno della direttiva BOL che siccome è stata emanata, l'Italia ad oggi mi risulta essere tra le uniche che non aveva adempiuto all'obbligo di andare alle aste e quindi semplicemente si mette fine a un passaggio che per quanto riteniamo noi era dovuto a questo punto. Quindi l'importante è adesso osservare che siano fatte correttamente le nuove aste e ci sia la tutela dei lavoratori e soprattutto delle attività che sono mantenute lì. Però naturalmente questo era un passaggio che non si poteva evitare dal momento in cui l'Italia fa parte dell'Europa e deve rispettarne comunque le leggi. Capitolo farmacie e rurali legato alla sanità in Consiglio regionale è stato affrontato anche questo tema in particolare a proposito di riconoscere un ruolo sempre più fondamentale in quei territori con poca popolazione presente di questi presidi, una risoluzione che ha ricevuto l'unanimità. Il Consiglio regionale ha approvato con voto unanime una risoluzione presentata dalla Partito Democratico, primo firmatario e il consigliere Mario Puppa per il riconoscimento del ruolo delle farmacie rurali e il consolidamento delle loro attività e dei servizi offerti. Le farmacie rurali, situate nei piccoli comuni, nei centri agricoli, montani e nelle isole minori, rappresentano spesso l'unico presidio sanitario rimasto al servizio delle comunità. Costituiscono un punto di riferimento essenziale per la popolazione di queste aree. Operano all'interno di piccole comunità, spesso caratterizzate da popolazione residente anziana e da un progressivo processo di spopolamento. Sono molto soddisfatto che il Consiglio regionale abbia approvato all'unanimità questa risoluzione che tende a valorizzare il ruolo delle farmacie rurali della Toscana. Le farmacie rurali sono quelle che servono i centri abitati con meno di 5.000 abitanti e che hanno avuto durante il periodo pandemico, lo stanno avendo ancora, un ruolo fondamentale nel supporto dei cittadini, soprattutto in alcuni servizi sociosanitari. Ecco, la risoluzione tende appunto a recepire anche sulla scia di un provvedimento contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il ruolo delle farmacie perché diventino sempre più strutture a servizio del cittadino, con la telemedicina, dematerializzando le ricette, facendo servizi di supporto e di rete che consentano soprattutto alle persone anziane che vivono nei piccoli borghi di non spostarsi e di ottenere alcuni servizi fondamentali nel proprio paese. Restiamo in tema di salute e di sanità perché continua l'impegno della Toscana anche attraverso il Consiglio regionale per la lotta al cancro della Cervice Uterina. Sconfiggere il cancro alla Cervice Uterina entro il 2030 è questo l'obiettivo che anche la Regione Toscana deve portare a compimento su indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare sul tema. I palazzi regionali saranno illuminati di un colore til. L'abbiamo voluto con forza con una mozione approvata in Consiglio regionale per dare una risposta a quel grande segnale di attenzione che molte donne attendono. Il cancro della Cervice Uterina è qualcosa di davvero molto complesso ancora da curare, tantissime morti e una volta nota la malattia. Noi abbiamo deciso di partecipare alla campagna di sensibilizzazione per la strategia mondiale contro la lotta al cancro della Cervice Uterina illuminando, come fanno tanti edifici pubblici, di un colore verde e chiaro anche il nostro palazzo. Noi in questi anni abbiamo messo in campo tante iniziative in questo senso. La Regione Toscana è una delle prime regioni italiane per la capacità di saper prevenire. Circa il 95% delle donne vengono monitorate attentamente da parte del sistema sanitario regionale e essere oggi qui significa mandare un messaggio forte, che noi continueremo in questa direzione, che noi investiremo sulla prevenzione perché è solo prevenendo che è possibile cercare di trovare il modo di evitare che tante donne possano ancora oggi purtroppo morire di questa terribile malattia. Il vaccino è lo strumento per superare questa malattia, un siero da inoculare a maschi e femmine over 11 perché dal papilloma virus hanno origine anche tumori specifici dell'apparato sessuale maschile. La Regione intende raggiungere almeno il 95% della popolazione. Il papilloma virus è un virus trasmesso per via sessuale, anzi è il virus più trasmesso per via sessuale che causa malattie da più lievi, tipo i condileomi, a malattie gravi, quale il cancro del tumore alla cervice uterina, ma non solo di questo. È un argomento importante perché ci sono 7.000 casi all'anno di questi tumori e circa 2.500 sono poi tumori della cervice uterina. Il piano, la strategia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede una prevenzione primaria che è il vaccino contro l'HPV fatto nei ragazzi, negli adolescenti dagli 11 anni in poi, sia per le femmine che per i maschi, e la prevenzione secondaria attraverso i vari screening e poi ovviamente quello che è il trattamento. Chiudiamo con un appuntamento che torna ormai una tradizione del territorio senese, la mostra a mercato del tartufo bianco di San Giovanni d'Asso, un appuntamento che come detto si ripresenta adesso nel 2021 dopo lo stop dello scorso anno dovuto all'emergenza coronavirus con tanti prodotti d'eccellenza. Il tartufo bianco delle crete senesi, protagonista della 35esima edizione della mostra a mercato in programma nei weekend del 13 e 14 e del 20 e 21 novembre a San Giovanni d'Asso, l'iniziativa è stata presentata in Palazzo del Pegaso da Paolo Valdambrini, presidente dell'Associazione Tartuffai Senesi, che riunisce oltre 300 iscritti. La Kermes, che torna quest'anno dopo la pausa dovuta all'emergenza covid, propone lo Square Food con stand gastronomici delle eccellenze locali, la cerca del tartufo insieme ai tartufai senesi e i loro cani e il treno Natura, l'antico treno a vapore che partendo da Grosseto e da Siena porta al castello di San Giovanni, alla scoperta di paesaggi inconsueti della campagna senese. Non mancheranno le visite delle aziende agricole, il tour al museo del tartufo, trekking tra i boschi e campagne passando per il parco archeologico di Pava. Credo sia l'unica realtà che sia gestita direttamente dai tartufai, non dai commercianti. Quindi il tartufo a chilometro zero, un prodotto che a causa delle scarze piogge estive sarà in pochissime quantità, ma la qualità credo che non ci sia bisogno di descriverla, sentite che profumo e quindi venite a trovarci a San Giovanni d'Asso, un piccolo borgo, poche anime, ma immersi nella natura, nella campagna senese. Per noi sono stati due anni particolarmente difficili, soprattutto perché quella che era una delle nostre peculiarità, ovvero aprire le porte a chi ci viene a trovare e a essere ospitali, si è interrotta. Quest'anno ovviamente con tutte le limitazioni dovute alle norme, riapriamo, riapriamo però con un programma che si rinnova e soprattutto con una serie di eventi e iniziative che vanno a valorizzare quello che è uno dei nostri prodotti principi del nostro comune, ovvero il tartufo bianco delle crete senesi. Per noi diventa un prodotto di grande eccellenza, il dovere di promuovere una di quelle eccellenze nel territorio, una realtà come Montalcino che insieme a San Giovanni oggi è in grado di coniugare un'offerta complessiva del proprio territorio e del proprio prodotto e nello stesso tempo trova anche conferma il ruolo attivo dell'Associazione dei Tartufai e per me anche doppia soddisfazione dopo che con il bilancio regionale siamo stati in grado di aumentare le risorse a vantaggio delle associazioni che potranno goderne sia loro che i loro comuni per incentivare quella che è un'attività importante della tartuficocultura che consente la produzione, l'allevamento e la costruzione diciamo di un prodotto che se curato nel proprio territorio dimostra di continuare a esistere e a produrre eccellenza. Quindi il dovere del Consiglio regionale è quello di promuovere un evento che rende Montalcino e nella sua specificità San Giovanni il cuore diciamo delle produzioni non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale. E con questo è davvero tutto la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui vi ricordo però che potete sempre seguire tutte le notizie, tutti gli aggiornamenti riguardanti le attività del Consiglio regionale all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it L'appuntamento è per la prossima settimana ovviamente sempre su RTV38. Arrivederci. Grazie a tutti.